Ben trovati, sembra essere ritornati al 1978 per due motivazioni, una politica e l'altra economica. Quest'ultima vedeva quegli anni fortemente caratterizzati da una crisi economica che non è certo paragonabile a quella che stiamo vivendo. Furono gli anni degli austerity, ricorderanno in molti, molti di noi erano proprio molto piccoli, si ricorderà il non uso dell'auto per risparmiare energia, benzina e l'obbligo la domenica di camminare in bicicletta. L'altro aspetto, quello più politico che ci riconduce sempre al 12 giugno del 1978 è legato alla scelta, alla decisione del popolo italiano di conservare il finanziamento pubblico dei partiti, ma poi qualche anno dopo lo stesso popolo italiano votò contro questo finanziamento. Il risultato è quello del 1978, noi abbiamo un finanziamento pubblico dei partiti camuffato da rimborso elettorale e oggi si fa finta di dire rivediamo, riconsideriamo, azzeriamolo e annulliamolo. Perché nel 1978 fu conservato e il popolo disse sì ai soldi ai partiti? Perché tutti i partiti, maggiormente quelli di massa, i più grossi come la democrazia cristiana e il partito comunista, avevano l'interesse a difendere questo non per prendere i soldi dallo Stato, ma principalmente per giustificare le loro capacità di spesa. Avevano strutture faraoniche, botteghe oscure, piazza del Gesù, migliaia di dipendenti in tutta Italia. Dovevano però giustificare quegli esborsi che derivavano dai contributi esteri che ricevevano sia l'ADC che l'ex partito comunista. E avendo, come dire, dichiarando ai cittadini che invece vivevano col finanziamento pubblico, potevano non rendere note tutte le risorse economiche che giungevano. Quindi anche in politica vi sono i cicli, momenti in cui i partiti dicono al proprio elettorato cosa eventualmente votare per un loro tornaconto di struttura personale per ciò che riguarda i leader e altri momenti in cui i partiti non riescono a controllare il proprio elettorato. Per cui tante volte succede che il cittadino possa votare autonomamente e liberamente. Ma dal 78 ad oggi è cambiato tutto. Dal 78 ad oggi si è rivoluzionato il modo di vedere la politica e della partecipazione di ognuno di noi alla vita di partito. Perché ieri esistevano le sezioni, le federazioni provinciali, regionali, che non erano soltanto il momento in cui si incontravano, oggi lo fanno realmente poche volte l'anno, si incontravano i dirigenti, coloro che contavano nel partito, ma erano i momenti di aggregazione del cittadino che credeva in un'idea e in un partito. Questa crisi ha delegittimato poi progressivamente quella che è l'attività politica. Sì, perché oggi i partiti godono di una crisi strutturale e di una crisi anche di seguito. La prova sono le elezioni amministrative alle quali noi abbiamo assistito e parzialmente anche quelle politiche. Quelle legate al rinnovo del Parlamento hanno avuto una supplenza che si è chiamata Movimento 5 Stelle. In queste amministrative invece il calo dei consensi, anzi l'aumentare dei cittadini che hanno preferito andare a mare, sono la testimonianza di quanto partiti veri o movimenti nuovi e presunti rinnovatori non riescano nel lasso di tempi strettissimi a interpretare i bisogni della gente. Per cui il cittadino è incacchiato a Lecce così come a Belluno. A Lecce perché non riesce ad andare avanti e subisce per esempio l'aumento del parcheggio per cui nel parcometro, in quella macchinetta infernale deve mettere più euro per poter sostare in strade pubbliche. A Belluno c'è la crisi dell'industria e la chiusura degli stabilimenti e quindi anche la povertà che cresce per le famiglie che vivono su quei territori. Ecco, la politica non riuscirà a fare un passo in avanti sino a quando per giustificare proprie malefatte o per giustificare anche in tanti casi una carenza economica delle casse di una pubblica amministrazione dovrà vessare sempre il cittadino e non mira invece e non punti invece a fare una rivoluzione culturale perché chiedono a noi cittadini di rinnovarci anche nella metodologia di rapporto con i partiti e con gli esponenti ma la verità è che loro sono chiusi, fermi in una rivoluzione delle coscienze che proprio non li tocca. Qualcuno di voi potrebbe dire che molti dei nostri rappresentanti non hanno coscienza. A domani. Dio